umanesi in Argentina, da numana la bocca, desidera esprimere il loro plauso per il riconoscimento che oggi si celebra ed è dedicato a quella generazione che per guadagnarsi il pane quotidiano affidavano la loro vita al mare. Siamo certi che ancora oggi riecheggia il grido di Varamo che il capobarca all'alba passava nelle abitazioni della ciurma per chiamarli a raccolta e andare a pesca. I più anziani emigrati raccontano ancora le antiche abitudini, le usanze, i proverbi e gli aneddoti. Noi, giovani di seconda generazione, questi ricordi li trasmetteremo ai nostri figli che nonostante il tempo e la distanza manterranno sempre vivo lo spirito della nostra cara numana. Firmato il Presidente e Avvocato Claudia Fabiani e il Segretario Bruno Bugatti. Grazie.